una buonissima serata a tutti voi come sempre ben ritrovati grazie per essere qui con me con l'appuntamento imperdibile della sera alle 19 qui ad angoli allora vi ricordo anche questa sera il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione basta inviare una mail ad angoli chiocciola espansione tv punto it c'è un amico che è tornato a trovarci questa sera con grande piacere saluto e ringrazio il dottor marco missaglia grazie per essere qui anche questa sera specialista in scienza dell'alimentazione e dietologia e allora io ti trascino proprio perché tra l'altro c'è anche un evento alle porte lo ricorderemo tra poco nel quale presenterai uno dei tuoi tanti libri dedicati appunto alla tua specializzazione e allora vogliamo parlare dei cibi tipici del nostro territorio fanno bene fanno male che cosa cosa vuoi dire a tal proposito non è un territorio che per vocazione nasce proprio con una grande prodigalità di alimenti nel senso che non ci sono le specialità tipiche appunto che sono magari in altre parti d'italia come magari possiamo trovare in altre zone dell'italia però ci sono anche vero che ci sono comunque degli elementi che proprio contraddistinguono proprio un po il contesto parliamo per esempio di misoltini se parliamo per esempio della polenta se parliamo per esempio anche dei dei ravioli dagli scapinage ad altro chiaramente riusciamo a trovare un link identitario proprio con le nostre zone con la zona dei laghe come del resto io sono un laghe essendo di mandello dell'ario ma come anche che appunto anche tu in fondo non sei tanto lontano dalla zona delle chiese e come anche appunto chi ci segue dall'abrianza però c'è da dire marco correggimi tu che i nostri piatti un po della tradizione non sono proprio leggerissimi cioè se parliamo di appunto polenta d'accordo ma se iniziamo a pensare a un bel piatto di cassola è chiaro è chiaro è un pochino più indigesto però si ma allora dobbiamo come dico sempre capire dove fin dove possiamo arrivare col nostro gusto senza appunto danneggiare quella che può essere la salute ecco perché il mio libro si chiama appunto gusto e salute per cercare un po di collimare conciliare queste queste due esigenze e allora ricordiamolo subito lo presenterai ci sarà questa presentazione a karate il praticamente il 5 di giugno organizzato appunto dall'amministrazione comunale quindi ci sarà questa presentazione con appunto la rivisitazione di gusto e salute in brianza quindi una valutazione un pochettino di quelli che sono anche un pochettino i piatti tipici e cibi ricorrenti nelle nostre zone dicevi della cassola beh la cassola ho scoperto proprio recentemente che è l'ossobuco con la polenta zona di milano e la cassola in alcune parti della nostra brianza vengono per tradizione fatte precedere da che cosa dalla grappa e questo è vero è un'abitudine che io come medico dietologo non è che propugno però è un'abitudine che leggo e che vedo fra l'altro in una cosa tipica anche della zona dell'ungheria io sono stato qualche tempo fa a che schemat dove appunto è un po la tradizione delle delle grappe ungheresi anche lì prima di farti magari assaporare le loro specialità tendono sempre a darti una grappa come antipasto ma questo il razionale perché perché produce sicuramente uno stimolo è un po un aperitivo ahimè un po forte per favorire la secrezione gastrica acida del nostro stomaco quindi avrebbe un senso nel facilitare la digestione di cose anche abbastanza complicate abbastanza laboriosi dal punto di vista digestivo aumentando incrementando quella che è appunto la risposta del nostro dell'acido del nostro scomico quindi agevolando quella che la metteci la grappa mettici il piatto di cassola io direi che sì una volta in una stagione in anno se gli umani dicevano seme di nanno lì c'è t'insanire quindi una volta ogni tanto può andar bene anche perché poi con le verze che pur son fibra quindi fanno bene alla nostra funzione intestinale pur son fibre quindi vanno a calmirare a regolamentare quello che può essere l'assorbimento da anche degli zuccheri oltre che dei grassi quindi sì alla verza sì in generale un po tutte queste fibre però è pur vero che si accompagnano con carne comunque carne rossa e talvolta anzi tipicamente anche con i salamini e le rugane che vi dicendo quindi insaccati che anche lì non vanno io lo dico sempre come dietologo non vanno messi al bando ma vanno regolamentati nella nostra non settimana però nella nostra mensilità o forse stagionalità quindi correttamente tu dicevi quella volta sì quella volta sì anche perché ci permettiamo di assaporare meglio questi piatti della tradizione che invece vanno appunto conosciuti anche per carità fatti conoscere anche le nuove generazioni fanno parte anche della nostra storia poi adesso che la gastronomia ha preso di gran lunga da protagonista diciamo il ruolo anche di favorire l'identificazione di un territorio anche diciamo così la produzione la presentazione di determinati territori sicuramente importante conoscerli però conoscerle anche dal punto di vista nutrizionale e quindi capire che quella volta va bene la cassola magari anche con un goccino di grappa se vogliamo prima o dopo prima o dopo però il messaggio concreto che deve passare che sono alimenti pesanti sono alimenti validi anche con la fibra finché vogliamo però che vanno presi con grano salis come chiaramente piatto unico certamente sicuramente facendoli accompagnare da tanta fibra che può essere non solo la verza ma può essere invece anche delle altre verdure magari grigliate per non essere troppo pesanti o troppo ricche di condimento ancora oppure anche della tanta frutta per cui la fibra le vitamine le vitamine idrosolubili le vitamine liposolubili che possiamo trovare appunto anche per esempio nelle carote che le possiamo trovare per esempio anche nei peperoni eccetera quindi sì la vitamina c presente nella verdura cruda però banalmente il beta carotene che è presente nel pomodoro piuttosto nel peperone piuttosto che nelle carote viene maggiormente assimilato laddove lo introduciamo comunque con l'alimento cotto quindi sempre come dico un equilibrio è appunto una ripartizione fra verdure crude e frutta cruda verdura cotta e frutta cotta anche perché tornando a questo famoso piatto di cassola tu spesso in altri contesti suggerisci magari la variante della modalità di cottura in questo genere di piatto tipicamente è fatto così ma come se io dovessi proporvi non solo so buco con la polenta anche lì benvenuta la polenta perché la polenta abbiamo detto che appunto è povera chiaramente di 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 cose soprattutto se prendiamo una polenta magari come quella valtellinese con una polenta mista con anche della della crusca insomma è un po più grezza non non va a crearci grossi problemi anche dal punto di vista chi di chi abbia delle intolleranze la gluten sensitivity l'intolleranza gluten per cui col mais non abbiamo problemi è chiaro che anche lì dobbiamo calibrare le le porzioni l'osso buco può andar bene anche quello la carne di manzo stracotta però è chiaro che anche lì non possiamo prenderne con tanta frequenza e con tanta quantità fra l'altro la polenta come sapete adesso viene comunque accettata e se vogliamo anche presa dai gourmet come elemento di diciamo identificazione di un di un di un territorio però sapete che negli anni passati nei secoli passati era stata comunque vista come causa della pellagra perché appunto c'era questa povertà estrema che coinvolgeva anche le zone del nord italia per cui dal veneto alla lombardia quindi anche le nostre zone dove spesso per povertà i contadini negli ambienti rurali si mangiava essenzialmente polenta e allora qual è il problema che non si introducevano delle vitamine quindi la vitamina pp che fra l'altro vitamina pp che è la niacina si chiamava preventi in pellagra perché appunto si vedeva che chi era affetto da pellagra era carente di questa importante vitamina e perché questo avveniva avveniva perché chiaramente si mangiava questo mais che non era affatto come invece si pensava diciamo fatto oggetto da di infestazioni da infezioni contaminazioni strane era solo che a differenza per esempio del messico dove non andavano incontro alla pellagra chi invece mangiava tipicamente i nativi messicani mangiava tipicamente il mais ma perché veniva messo in acqua di calce perché c'era quindi la possibilità di liberare queste vitamine che invece non era possibile liberare nel mangiare solamente la polenta essenzialmente solo quello ed allora c'era questa patologia grave davvero perché aveva ammietuto più di centomila morti anche nel secolo nel 1800 che era contraddistinta dalle 3D che era dermatite, diarrea e demenza quindi queste 3D che identificavano un quadro patologico anche grave che portava a manifestazione anche di ritardo mentale, di diatassia, di appunto di demenza vera e propria c'era tanta gente che davvero moriva proprio per un'alimentazione carenziale non era la polenta in sé ma era l'unicità della polenta come unico alimento privata dalla possibilità di dare invece invece nell'alimentazione le vitamine, quindi le vitamine del complesso B e quindi tutte le vitamine che possiamo trovare nel latte piuttosto che nelle carni piuttosto che nella frutta e nella verdura. Ecco perché invece è sempre importante e qui ci riallacciamo al messaggio che diamo nel mio libro, un'alimentazione equilibrata, un'alimentazione se vogliamo anche molto differenziata nelle scelte degli alimenti ma che appunto possa essere un'alimentazione che ci evita anche questi problemi che invece tornando appunto alla polenta nei tempi passati diventavano proprio un problema di salute. Marco, dieci secondi davvero una battuta velocissima perché poi siamo ai saluti sul mitico misoltino. Ma sì assolutamente, a polenta il misoltino perché no poi assolutamente sì pensiamo alle nostre sponde di tutti i nostri paesi rivieraschi. Attenzione a non esagerare con gli agoni appunto secchi che magari contengono più tiramina, che sono molto salati per cui se uno ha l'ipertensione arteriosa, le cardiopatie o delle nefropatie non può prenderne una quantità esagerata. Come dico sempre es modus in rebus, quindi la quantità giusta. Il connubio misoltino e polenta, guarda ancora una volta, ne parliamo, va bene perché comunque la polenta alla fine è una fonte di carboidrati complessi, non sono zuccheri semplici per cui va bene, non abbiamo nemmeno il glutine, oltretutto insieme alle proteine del misoltino. Se poi ci mettiamo sopra come condimento l'olio, io anche recentemente ho parlato a Milano tutto food dell'olio di oliva italiano, però ovviamente essendo un laguet ho speso due parole e gli amici pugliesi un pochettino hanno detto sì ma il nostro, direi che il nostro del lago di Como assolutamente è da valutare. Bassissima acidità e direi una produzione quasi eroica perché tirare fuori l'olio di oliva dai terrazzamenti che vanno a costellare il lago di Como non è cosa facile. Marco e quindi con questo ci salutiamo, io saluto e ringrazio Marco Missaglia per essere stato qui e per averci autorizzato come sempre a mangiare poco e tutto. Assolutamente, altrimenti noi dietologi non esisteremo. Infatti grazie, grazie anche a voi, rimanete lì tra pochissimo, un altro argomento, altri ospiti sempre ad Angoli. Grazie a tutti.